Ben Italia 2022 continua, continua con una torrefazione italiana che realizza una serie di prodotti per le gestioni a marchio mesetta possiamo dirlo tranquillamente, è la Coind. Ci troviamo in compagnia del responsabile commerciale dell'azienda Pietro Manzini. Pietro, benvenuto. Grazie a voi, benvenuti a tutti. Finalmente dopo 4 anni sono molto 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 contento di poter essere qui perché questa è una manifestazione di riferimento e leader per il settore dello CS Vending e devo dire che in questi anni abbiamo sentito proprio la mancanza. Ecco, diciamo che intanto questa è certamente la manifestazione di riferimento per entrare in contatto con le aziende da parte dei gestori, con i clienti, i gestori nel caso delle aziende. E intreccia dunque un interesse reciproco per andare a fare business. Nel vostro caso voi proponete per la prima volta direi al popolo del vending un intero sistema chiuso con diverse tipologie di capsule e diverse miscele. Da dove cominciamo? Sì, come hai detto tu e avevamo anche anticipato sulle colonne di Vending News, noi siamo qui per la prima volta con il nostro sistema chiuso che è il sistema TCS Touch Coffee System, composto da macchina più capsule, sistema proprietario nostro e abbiamo colto l'occasione di questa fiera per fare un po' una virata rispetto a quello che era il progetto originale che prevedeva la commercializzazione proprio con il marchio Touch Coffee System e poi ci siamo resi conto che in realtà il nostro brand di riferimento è Meseta, il caffè Meseta e quindi in questa occasione proprio lanciamo l'intera gamma macchina più capsule a marchio Meseta. E dunque, oltre al marchio Meseta che è quello destinato proprio alla distribuzione automatica, Coind realizza diciamolo veramente solo per conoscenza per tutte le aziende di vending che ormai si cominciano a cimentare anche in ambito Oreca. Quali sono gli altri brand che realizza e commercializza Coind? No, la nostra azienda è leader nel mercato del private label, cioè la produzione di prodotti per conto terzi, poi al nostro interno abbiamo tre brand di riferimento che sono caffè Meseta che l'abbiamo appena citato, caffè Carracci e il marchio Attibassi che è un marchio destinato in prevalenza al canale Oreca, però abbiamo una piccola linea di capsule compatibili Nespresso segmento premium, quindi un bel prodotto decisamente. Complimenti. Allora Pietro, diamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto con voi, con te nello specifico e magari chissà, aprire una trattativa commerciale per diventare vostri distributori. Innanzitutto il nostro sito di riferimento che è www.coind.it, qui trovate tutti i riferimenti per poter contattare l'azienda. Nel caso invece ci vogliate scrivere direttamente potete farlo alla casella di posta elettronica info.coind.it Pietro, grazie per la collaborazione, sono certo che piano piano con il tempo ci saranno un po' di contatti che naturalmente cercheranno di chiedere informazioni sui vostri prodotti. Grazie a voi, un saluto a tutti, è stato veramente un piacere e speriamo di rivederci presto. Grazie.